Nocciole e olio, ma che cosa succede nella pasticceria vostra qui di Chiavari? Nocciole e olio è un progetto che nasce in questa crema spalmabile per unire due eccellenze della nostra Liguria, le nocciole misto Chiavari che sono del nostro introtterra e l'olio extravergine dop riviera Liguria e riviera di Levante, nella fattispecie quello che proviene dal nostro oliveto che abbiamo in gestione a Leivi. Nel 2018 abbiamo creato la crema Chiavarina che è una crema a base di nocciole misto Chiavari, zucchero e cacao ed è stato subito un successo, poi con vari esperimenti abbiamo creato quest'anno la crema Nocciole Gold che è un'evoluzione della Chiavarina con l'aggiunta di olio extravergine dop che esalta ancora di più il gusto della nostra nocciola. Le nostre nocciole, per chi non lo sapesse, sono veramente uno scrigno di gusto, sono un insieme di otto cultivar diverse, un magnifico esempio di biodiversità che nei secoli sono state selezionate dai contadini del nostro introtterra. La lavorazione avviene con la tostatura delle nocciole misto Chiavari e la selezione manuale delle stesse al fine di togliere delle eventuali nocciole che non sono conformi. Dopodiché vengono unite a zucchero e cacao e lavorate per almeno due ore in una raffinatrice a sfere insieme all'olio extravergine dopo. Mio padre aprì il primo panificio a Borgo Novo Ligure, il forno era addirittura alimentato a gusci di nocciola quindi diciamo che il legame della nostra azienda con le nocciole misto Chiavari è in continuo fino ad oggi. Negli ultimi anni c'è stato tramite la Camera di Comercio e tanti attori sul territorio una riscoperta di questo prodotto e noi ci siamo impegnati molto creando appunto dei prodotti come le creme spalmabili ed è nata anche una sinergia con la cooperativa Agricola Isola di Borgo Novo che è il principale punto di conferimento delle nocciole misto Chiavari da parte dei contadini. Poi con questa collaborazione è nata anche nel 2018 la coltivazione di un oliveto nel comune di Leivi che ci ha proposto un socio della cooperativa e che noi ci siamo presi in capo e giustamente il primo anno è stato disastroso però l'anno scorso siamo riusciti a produrre con grande soddisfazione l'olio DOP che abbiamo imbottigliato ed è stato veramente emozionante vedere sgorgare il primo rivolo d'olio dal frantoio e abbiamo avuto anche l'onore di avere un'etichetta donata dal pittore Luiso Sturla che ci ha voluto veramente fare questo meraviglioso regalo.